Ciao amici di Talia Top Games, allora oggi invece di darvi soltanto il link verso Pest Master ho pensato di mostrare, visto che ci sono ben 4, 4 agenti in squadra in arrivo lunedì 2 novembre, come vi ho anticipato nel filmato precedente, vi voglio mostrare i giocatori che arriveranno appunto lunedì 2, poi l'approfondimento in dettaglio ve lo fanno come al solito Rudy, Salerno e Marco Clama, quindi quello è l'appuntamento successivo, però iniziamo a vedere un attimo, così solo proprio i giocatori e il livello che avranno, perché appunto lunedì 2 novembre ci saranno 4 agenti in squadra, uno è quello della Juve, questi sono i giocatori della settimana di oggi, li abbiamo già visti, abbiamo un Ronaldo a 95, Dybala a 91, Cesni a 90, Delicto a 89, un po' poco Delicto a 89 secondo me, Betancourt a 88, Quadrado a 88, Bonucci a 87, Rabiot a 87, questi sono i 2, 4, 6, 8 giocatori della Juve che arriveranno in evidenza lunedì, poi c'è la Lazio, Luis Alberto a 89, Immobili a 89, potremmo fare anche 90 Immobili, dai, anche Milinkovic e Savic a 88 mi sembra un po' basso, Acerbi a 88, Correa a 87, Stracoscio a 87, Lazzari a 85, Parolo a 83, e poi qui c'è il signor Liverpool con un Van Dijk a 94, mio sogno proibito anche l'anno scorso, ancora non ce l'ho, Sala a 92, niente male, Mané a 92, Allison a 91, Robertson a 88, Wijnaldum a 87, Keita a 85, Minamino a 84, se uno girerà il Liverpool e trova Minamino immagino le imprecazioni che arriveranno ampiamente, E poi qui un altro giocatore che adoro, l'anno scorso mi ha fatto benissimo, in peso 2020, De Bruyne a 94, Ederson a 91, Sterling a 91, Walker a 88, Rodri a 87, Ruben Dias a 87, Gabriel Jesus a 87 e Foden a 85, 8, 16, 24, 32 giocatori di cui una trentina, diciamo, diciamo una venticinquina sono veramente, una ventina super top player, chi non vorrebbe Ronaldo Di Bale e Chesni, ma anche De Ligt, chi non vorrebbe Luis Alberto Immobile, Mininkovic, Savic, chi non vorrebbe Van Dijk, Salaman e Allison, Robertson e anche Wijnaldum, chi non vorrebbe De Bruyne, Ederson, Sterling, Walker, che era un po' meno, diciamo, anche Rodri e Ruben Dias penso che crescano bene, comunque insomma a lunedì arrivano tanti giocatori, io penso che girerò il Liverpool onestamente per Van Dijk, per anche Salah in evidenza, anche se ce l'ho già, anche Mané in evidenza mi interessa, anche Allison, insomma, anche se pure De Bruyne mi piacerebbe tantissimo, non lo so, non lo so, Ronaldo ce n'ho già due, mi bastano, quindi penso, penso che girerò le squadre inglesi, anzi ne potrò girare una perché penso che arriverò a 300 monete, comunque una delle due squadre inglese, ci penserò e poi vedremo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ribadisco, nel filmato trovate nella descrizione del video il link verso Amazon per qualsiasi tipo di acquisto, pasta, videogiochi, computer, condizionatori d'aria, insomma su Amazon c'è tutto, se passate da quel link una piccola parte del vostro acquisto, piccolissima, va per supportare il nostro canale YouTube, i nostri siti di network, Italia Top Games, Video Giocare Gratis, Play Next Channel, il blog di Pes Italia, a voi non costa niente, neanche un centesimo di più, però ci aiutate e ci supportate in questa maniera. Oggi pomeriggio appuntamento con il TG Tech, si vince Street Power Football, spero sempre che sia un appassionato a vincere, grazie per l'attenzione e a prestissimo, ciao!